Sui fondali oceanici ci sono circa 11 milioni di tonnellate di plastica. Lo rivela una nuova ricerca dell'Agenzia Scientifica Nazionale Australiana e dell'Università di Toronto in Canada. Stime drammatiche se si pensa che è come se ogni minuto entrasse nell'oceano un camion da spazzatura pieno di plastica. Mentre studi precedenti ci hanno già fornito una stima delle microplastiche sul fondo del mare, questa nuova ricerca esamina invece oggetti più grandi come reti, bicchieri o sacchetti di plastica. Si tratta dunque della prima stima di quanti rifiuti di plastica finiscono sul fondo dell'oceano. I dati scientifici sono stati utilizzati per costruire due modelli predittivi per stimare la quantità e la distribuzione della plastica sul fondo dell'oceano. Uno basato sui dati dei veicoli telecomandati ROV e l'altro sull'utilizzo delle reti a strascico. I dati ROV hanno permesso di stimare che sul fondo dell'oceano risiedano dai 3 agli 11 milioni di tonnellate di plastica. Circa la metà, il 46%, si trova al di sopra dei 200 metri di profondità. Le profondità oceaniche che vanno invece dai 200 metri agli 11.000 metri contengono il resto, il 54%. Sebbene i mari interni e costieri coprano una superficie molto inferiore rispetto agli oceani, si prevede che queste aree contengano la stessa massa di rifiuti del resto del fondale oceanico. Comprendere le forze trainanti dietro il trasporto e l'accumulo di plastica nelle profondità oceaniche ci fornisce informazioni su come ridurre le fonti e come agire per avviare una bonifica ambientale, riducendo così i rischi che tale inquinamento comporta per la vita marina. Grazie.